Non puoi più muoverti? Non puoi fare più quello che ti appassiona? Bene, questo è il momento giusto per ricominciare a fare la preparazione generale. Io ho avuto questa opportunità più di una volta ogni volta che mi sono dovuto operare per un incidente o quell'altro, cioè l'articolazione delle ginocchia, la spalla, i gomiti. In questi momenti che non potevo, tra virgolette, muovermi, in realtà io ho risviluppato tutto quanto il sistema e ho fatto tutta la preparazione generale che in pochissimo tempo mi ha ripermesso di rimettermi incareggiata. non solo mi ha rimesso incareggiata ma mi ha reso più forte ancora. E' quello che cerco di proporre di trasformare questo momento per sviluppare il tuo corpo a essere più forte. Questa settimana che io mi allenerò, cercherò di coinvolgerti offrendoti tre livelli di esercizio con tre difficoltà diversi per sbarra, corpo libero e stretching. Riprendere quotidianamente un esercizio e ripeterlo tante volte nell'arco della giornata, quindi senza affaticarmi troppo ma mantenendomi attivo. Quindi trovare sempre il tempo per fare un esercizio piuttosto che fare una sequenza o una seduta di allenamento. L'allenamento deve essere costante, quindi il tuo corpo lo prepari sempre, sempre preparato. E' come il concetto che devi respirare. Cioè per respirare uno deve buttare dentro l'aria e buttarla fuori. Inspirare, espirare. Quando? Sempre. Quindi questo concetto entra nella modalità della fortificare l'organismo e essere sempre pronto. Ma sempre pronto ovviamente secondo dei criteri di salute. Sempre attivo, crescendo con l'intensità del movimento. Aumentare la frequenza ma mantenendo bassa la quantità. Primo esercizio sbarra. Mani larghezza delle spalle più o meno, dipende dalla sbarra che c'hai. Anche riscaldamento. Se tu sei capace a fare trazione andiamo col segno. Secondo che è la trazione. Vado in sospensione. Vado su. Uno. Vero e giù. Lega. Vai. Ok? Pronta? Vai su. E frena, 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 frena. Ok? Giù. Basta. Giù. Inizia la schiena addominali sulla sbarra. Dai. Slancio. Elevazione, allungamento. Riscendo. Attenzione, allungamento. Vai. Up. Up. Giù. Up. Giù. Up. Giù. Mettasi di fianco alla parete, passo avanti. Inizio con la gamba sinistra. Gamba avanti, sinistra. Scendo, giù. Abbasso gamba. Abbasso mani. Vado giù. Vado giù a terra. Mi rialzo e vado indietro. Scivolando e rinno in ginocchio. Sempre sinistra avanti. Torno su e vado indietro. Cominci. Destra. Piedere. Giù. Ginocchia. Giù. Braccia. Giù. Atterra. Giù. Su. Ginocchia. Vado. Vado. Gamba destra. Spingere. Impiedi. Tornare indietro. Gamba destra. Prendi il cuscino. Braccia sul cuscino. Elevazione. Gomito giù. Gomito giù. Mano su. Mano su. Gomito giù. Gomito giù. Mano su. Mano su. Liegamento a terra. Semplicemente. Vai giù. Un. Vai. Un. Giù. Un. Up. Due. Up. Tre. Up. Quattro. Up. Cinco. Up.